Mi servono i preparativi per la notte bianca di Gambolò e mi trovo con il vice sindaco Anna Precerutti e con la vice presidente della Pronocco Daniela Apparini. Ciao. Ciao, ciao Simona. Allora siete quasi pronti? Sì, siamo quasi pronti. Domani sera ci sarà la notte bianca a Gambolò, sabato, sabato 24 giugno dalle ore 18 alle ore 24 notte bianca con tanti tanti spettacoli. Ci tenevo Simona a ringraziare i commercianti di Gambolò. Senza di loro questo evento non si poteva realizzare perché ci hanno messo tanto impegno, ci mettono fatica, tolgono del tempo magari le loro famiglie, ma tutti hanno collaborato per questo evento. La notte bianca prende tutto Gambolò, non è soltanto il centro, prende le vie limitrofe, prende gran parte di Gambolò. Per cui un mio grazie va veramente ai commercianti di Gambolò che hanno collaborato tanto. Vice sindaco, come si svolgerà la nottata? Allora la nottata inizierà dalle ore 18, prima logicamente ci sono tutti i preparativi, finalmente ce la facciamo dopo aver rimandato due volte per causa tempo, finalmente ce la facciamo, domani speriamo in una bella giornata. Per cui avremo tutte le esposizioni con varie bancarelle, avremo tanta musica, quindi avremo tanti gruppi musicali sparsi per tutto Gambolò, avremo delle attrazioni un po' particolari, avremo delle brasiliane che gireranno anche loro per il paese, avremo una band che coinvolgerà i passanti anche in canti, musica, ballo e cose del genere e poi tanto cibo, tanto cibo da strada per cui passeremo dal classico panino con la salamella, l'hamburger, le patatine in abbondanza e poi avremo anche invece i nostri ristoranti che logicamente ci attendono con i loro menù tutti particolari, per cui veramente sarà una festa molto molto coinvolgente e coinvolgerà tutto Gambolò, ma non solo Gambolò, noi aspettiamo tutti voi assolutamente, venite a trovarci, venite a Gambolò tranquillamente perché ci sarà tanto tanto divertimento. E una cosa importante, come vi voglierà anche i bambini? Sì, ci saranno anche animazioni per i bambini, ci saranno attrazioni per i bambini, i gonfiabili, ci sarà il truccabimbi, ci sarà la baby dance, i bambini, gli anziani, tutti, tutti, tutti saranno coinvolti. Bene, una festa per tutta la famiglia e per tutte le famiglie. Diamo l'appuntamento. A domani. A domani.